Dall'ultimo risultato, uno 0-0 a Taranto, comunque che è un'iniezione di fiducia contro una squadra forte. È un'iniezione di fiducia. Noi abbiamo l'obbligo di continuare questo campionato e cercare di raggiungere il massimo dei risultati, che anche ci siamo prefissi. Quello di domenica scorsa a Taranto è stato un risultato comunque positivo e anche la prestazione. È chiaro che a qualcuno è sembrata una partita più difensiva che altro, però tante volte sono sempre le circostanze a fare di una partita o in una maniera o nell'altra, anche in base a quelle che sono le caratteristiche degli avversari. Di sicuro il risultato a noi ci ha dato quel pizzico di consapevolezza maggiore e magari che ha reso la squadra ancora più solida rispetto a prima. Nel mercato di dicembre è arrivata anche Favette, la squadra è riuscita sicuramente rafforzata. Sì, abbiamo anche ritoccato la Rosa, perché prima la Rosa era composta da 29 elementi, adesso siamo a 25. Certo, Favette è andata a rimpiazzare i tre attaccanti che sono andati via. Abbiamo creato un maggiore equilibrio come Rosa, soprattutto e maggiore competitività all'interno del gruppo. Domenica c'è il darby con il Brindisi, una partita che l'anno scorso valeva il campionato di eccellenza e che quest'anno vale tanto in Serie D, sempre ovviamente molto sentita. È sempre molto sentita e sarà una partita, io mi auguro soprattutto molto bella, sotto l'aspetto agonistico e anche ambientale, perché sono due realtà che nel calcio hanno dato tanto in passato e sapranno dare ancora in futuro tantissimo.